Inaugurata nella frazione di Petriccione e Castellalto, una nuova scuola elementare totalmente antisismica e senza barriere architettoniche e che costituisce il primo lotto di un progetto edilizio più ampio, una scuola innovativa per circa 160 bambini della scuola primaria. L'ambiente è stato progettato e realizzato nel rispetto delle più recenti indicazioni pedagogico-didattiche, tenendo conto del profondo legame tra ambiente e territorio. Gli spazi sono pensati per eliminare ogni separazione di percorsi tra bambini a diversa capacità motoria e assumono la connotazione di Civic Center a servizio della comunità locale. Sì, oggi è una giornata fondamentale per il studio comprensivo di Castellalto che mi onoro di dirigere perché oggi apriamo questo plesso bellissimo, meraviglioso, moderno, che rispetta tutti i criteri di sicurezza, di sostenibilità ambientale, ma non solo, però come potete vedere è un plesso ampio, luminoso, funzionale con aule e laboratori adatti, adeguati a una didattica che abbia al centro il bambino. Per cui noi oggi siamo molto contenti e soprattutto siamo contenti di questa collaborazione che abbiamo qui col comune di Castellalto che ha sempre messo la scuola al centro della propria politica. Un bel risultato. Oggi dimostriamo che quando il pubblico è in sinergia con tutte le istituzioni funziona ed è in grado di raggiungere gli obiettivi. Una scuola completamente antisismica, non una sicurezza percepita, ma una sicurezza reale e un investimento sul futuro per le nuove generazioni. Questo grazie all'apporto di tutti, delle istituzioni e di tutti quanti quelli che hanno, mi permetto di dire, dato una parola e un consiglio giusto a questa comunità che mi onoro di rappresentare.